che bello un'altra giornata inizia un'altra giornata da archiviare da catalogare da ordinare da sistemare il mondo è così confuso per fortuna ci siamo noi noi che conosciamo molto bene la differenza tra destra e sinistra tra male e bene tra alto e basso noi noi che sappiamo archiviare oh guardi collega delle formichine che carine tutte ordinate in fila sono della specie formiche fusche della famiglia delle formicide sa che questi sono dell'ordine degli menotteri ma davvero non erano morte archiviate l'ordine regna e l'ordine siamo noi buongiorno buongiorno oggi sabato 19 novembre 2022 si festeggia sant'abdia e dall'ufficio e dalla direzione tutta i nostri più sentiti auguri a tutte le abdia auguri abdia il cielo è coperto la temperatura di circa 21 gradi venti leggeri e precipitazioni assenti il nostro personale d'ufficio è pronto? pronto! benissimo! in data odierna archivieremo storie di disabilità buon lavoro! buon lavoro! ah cominciamo immediatamente la giornata gentile collega si iniziamo con la prima storia ovvero la storia di Leopoldo allora Leopoldo è un ragazzino con una piccola disabilità nasce vive e cresce in un piccolo paesino di montagna ah i piccoli paesini di montagna sono la colonna portante della nostra bella Italia allora per via di una gamba atrofizzata Leopoldo deve usare tutori, bastoni e sedie a rotelle la difficoltà a raggiungere il paesino arrocato tra le montagne per educatori e operatori sanitari non rende facile la richiesta di aiuto da parte della famiglia allora la mamma lascia il lavoro e il padre abbandona le partite di calcetto ah il calcetto! sono la colonna portante della nostra Italia allora i genitori dedicheranno tutta la loro vita a Leopoldo che non abbandonerà mai il paese e resterà per sempre a vivere con loro che bella storia, due genitori che rinunciano a tutto per crescere questo ragazzo che come possiamo definire diverso la mamma abbandona il lavoro giusto il papà gioca un po' meno a calcetto giusto i genitori si sacrificano perché in fondo il ragazzo non ha nessun altro d'altra parte non è che si può pensare di vivere una vita normale come se niente fosse e poi la montagna ha le sue insiglie e certo in montagna ci sono le scarpate salite e discese dappertutto e poi io dico sei disabile? e allora qual è il posto migliore per te se non casa tua? quali persone più indicate puoi in fondo a prendersi cura di te se non i tuoi familiari? certo il sacrificio paga sempre sì bene se non ci sono altre considerazioni direi che possiamo passare all'archiviazione perfetto io direi di archiviare questa storia nella cartella disabili accuditi dalla famiglia allora sì la cartella è corretta ma io andrei più nello specifico li metterei tra disabili di montagna felici tra le mucche è una perfetta cartella un po' haidi perfetto archiviamo archiviamo ah che bella storia da archiviare la giornata inizia nella migliore delle maniere storia di disabilità numero due melania e thomas melania e thomas sono due gemellini che in seguito a delle complicazioni del parto sono rimasti paraplegici la mamma e il papà sono molto presenti e li spronano ad avere successo nella vita ah il successo nella vita è una delle colonne portanti del nostro paese all'età di 16 anni vincono l'argento olimpico nel canottaggio ma questi due a 18 anni pubblicano il loro primo libro diversamente uguali e ora sempre loro melania e thomas sono giornalisti sportivi e collaborano con diverse testate nazionali una storia di successo così pare ecco io non vorrei passare per quella un po' retrogada no 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 dica 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 perché questa storia un po' perplime anche me dica dica che debba necessariamente passare questo concetto no no quale quale dica 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 perché forse stiamo pensando la stessa cosa insomma mi sembra evidente è un po' palestiano insomma no 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 non si trattenga esprima o sei disabile o hai successo ma la stessa cosa che penso io ma certo ma dai ma ma poi dove dovremmo classificarla questa storia ma nella cartella disabili di successo ma è un paradosso cioè o sei disabile o hai successo i disabili devono starsene a casa e dai e dove sono le rampe dove sono dove sono le pedane dove sono gli ascensori che funzionano non ci sono perché perché se ne devono stare a casa certo la città poi è piena di parcheggi per disabili vuoti giustamente occupati da chi non trova parcheggio e perché dove sta deve mettere la macchina ma hanno ragione perché le strade la città gli edifici non sono pensati per loro e poi questi si mettono a fare sport ma 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 io non capisco perché questi due non soffrono tranquillamente a casa loro eppure è così semplice dove archiviamo questa storia allora la cartella disabili di successo non esiste e io mi rifiuto di crearla guardi senta io propongo di archiviarla nella cartella disabile che si ostinano ad ignorare la loro condizione allora se mi permette invece io vorrei suggerire disabili testardi con genitori ottusi che li spingono a un improbabile successo cartella perfetta archiviamo archiviamo ah ma ristoria come cosa ma fuori di testa proprio ah veramente ma non se ne può più prendiamo un caffè beh direi di proseguire almeno con un'altra storia così ci godiamo la nostra pausa allora la nostra terza storia è la storia di Lorena allora in una grande metropoli la giovane Lorena ipovedente vive la sua disabilità in maniera stravagante già si mette male frequenta le associazioni culturali che gli infondono amore per l'arte il cabaret e il teatro il teatro il teatro è la colonna portante della perdita di tempo allora le fanno credere che i limiti sono nella società e non nella sua condizione e va bene dai e allora Lorena mette su una stand up comedy sulla disabilità il pubblico ride e Lorena viene seguita da sempre più persone in che senso cosa? come è possibile che la condizione di Lorena adesso fa ridere ma questa Lorena non ha capito niente ma perché questa non accetta di soffrire? Lorena non fai ridere devi far piangere ah sono d'accordo con lei ma le dirò di più di più? sì allora Lorena ha sempre più successo e si susseguono le ospitate in tv e sui canali social Lorena si innamora così di Daria normodotata e le due vanno a convivere insieme cosa? cosa sta dicendo? di cosa mi sto parlando? mi faccio prendere le gocce lei mi sta parlando di una disabile che si mette con una normale è per giunta omosessuale no ma basta 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 a chi vi ha? basta ma questa storia è inaccettabile è un inferno una disabile che ride che si fidanza con una normale che vive senza i genitori che è omosessuale che fa spettacoli no 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 basta basta allora questa è una delle più grandi pagliacciate mai viste mai sentite mai lette direi di non perdere tempo questa storia può stare in un'unica cartella ovvero la cartella circo perfetto l'archiviamo? archiviamo eh prima di archivarla nella cartella circo ci vuole il consueto protocollo musicale ridicolo procedo proceda mi presto laurena vai oh via Lorena via insieme a tutti i tuoi amici pagliacci via a fare i trapezisti In questa cagare, guardi, che schifo, colorata, che si ride questo pagliaccio? Cosa si ride il pagliaccio? Vattene, vattene dalle lucido sottile, vattene! Vai, all'inferno! Disinfettiamoci. Disinfettiamoci ogni volta che si tocca la cartella dei pagliacci, del circo. Ma io non capisco. Questi disabili, questi diversi, tutti pronti a rincorrere la loro felicità, la loro normalità, la loro quotidianità. E la mia e i miei diritti di essere normale e pretendere di sentirmi migliore, con più diritti di tutti gli altri e avere il diritto di potermi sentire una bravissima persona perché li compatisco, questi storpietti. Anche perché se io non vedo nessuno che soffre intorno a me, come faccio io a capire che la mia non è una vita di merda? Giusto. Caffè? Caffè! Ah, ce lo siamo proprio meritati! Anche se, guardi, anche se per colpa di gente come Denise, Mattia, qua siamo costretti a una quantità di lavoro eccessiva. Facile così! Ho una malattia agli occhi, ho fatto un figlio e non vengono al lavoro! Siamo costretti a prenderci questo caffè di fcorsa! In maniera furtiva! Come se non ce lo meritassimo! Come se non avessimo dedicato tutta la nostra vita a questo ufficio! Non è un ufficio, è una missione! Separare il bene dal male! Grazie! Come lo archiviamo questo caffè? Corposo, soddisfacentino, bastava quello zuccherino in più che... Guardi, io lo archiverei nella cartella caffè che puntava a Napoli e si è fermato in periferia! Lei è troppo buono, allora io lo archiverei nella cartella che puntava a Napoli, ma poi si è perso nel Lazio! Vabbè, facciamo così, archiviamolo nella cartella si può fare di più! Mezza Italia nella cartella si può fare di più! Archiviamo? Archiviamo! Incredibile, comunque questo ufficio sta andando proprio a rotoli! Lo sa che anche Marella... Marella? Marella, ma non so niente di Marella! Sta venendo meno i suoi doveri, Marella! E cioè, mi racconti? E guardi, dice che la mamma è molto malata, sta morendo! E capirai, muoia gente ogni giorno, sa che novità! E dice che la mamma ha solo lei e deve accudirla! Ma cosa c'entra? Grazie al cielo ci sono gli ospizi! È una scusa! Ma certo! Come la maternità, come i problemi agli occhi, sono tutte scuse! Questi qui non vogliono lavorare! Eh certo! E poi sa cosa hanno detto tutte queste persone all'uscere? E che cosa hanno detto? È un loro diritto! Ah, i diritti, i diritti, i diritti! Tutti a parlare di diritti! E nessuno che parla del sacrificio! Anche perché noi, di fatto, la sacrosanta verità è che ci stiamo accollando il lavoro di questi nullaffacenti fancazzisti di Denise, Mattia e Marella! Guardi che poi tra l'altro, eh, per esempio, io non ci credo mica tanto, eh, Denise, la neomamma, quella non si vede, non vede l'ora di togliersi dalle scatole, sta marmocchia poppante! Sta perdendo del tempo perché non ha voglia di lavorare, è Mattia, la malattia degenerativa agli occhi, si è fatto fare un foglio da un amico, questo è! Ma lei è un genio! Lo so! E allora potremo archiviare Mattia nella cartella falsi invalidi! Archiviamolo! Archiviamolo! E Marella? E Marella, guardi, Marella non gliene frega niente della mamma, quella ha 97 anni, è l'ora sua! Sta facendo tutto perché vuole l'eredità, infatti non viene al lavoro per sistemare le cose col notaio, con le banche, è appena la vecchia schioppa! Questa non torna più a lavare, io lo dico io! Ho capito, cartella, persone che vivono di rendita! Sì, anche perché poi ci costringono a tutta una fase organizzativa di doverli vedere lì con le loro sceneggiate! Marella verrà qui, in ufficio, col trucco sceso, piangente, mia mamma sta morendo prematuramente a 97 anni! Ah sì, con tutte queste ridicolagini che poi arriverà tutto vestita di nero, vestita tipo mortisia, ci costringerà tutti quanti a bere il caffè in questo clima funesto! E poi con queste sceneggiate il passo che ti separa dalla cartella circo è brevissimo! E una volta che sei circo, non c'è più niente da fare! Ah, che bello! Ora, passate a ripulire il mondo e le sue storture! Noi, noi siamo gli eroi dell'archivio! Archiviando, cataloghiamo! Catalogando, archiviamo! E archiviando, ripuliamo il mondo! Il mondo è così confuso e anche voi siete così confusi, per fortuna ci siamo noi, che conosciamo bene la differenza tra male e bene, tra lavoratori ed invalidi, tra lavoro e teatro! In fondo, si fa di tutto per non finire nella cartella circo!